E siamo giunti al terzo libro letto nel 2022, ovvero Il filo avvelenato di Laura Purcell. Un libro che, come avete potuto capire dal mio Kindle, appunto, ho letto in formato Kindle, quindi sul mio Kindle. Comunque, io sono Serena, questo è il mio canale, se non vi siete ancora iscritti potete farlo per avere altri video e per non perderci di vista. Le mie recensioni sono sempre prive di spoiler e quindi potete un attimino cercare di capire se un libro potrebbe o meno fare al caso vostro. Se mi seguite su Instagram sapete sicuramente che questo libro l'ho letto molto rapidamente e mi è piaciuto tantissimo, perché ha tanti elementi insieme, tutti concentrati, di cose che piacciono a me, come cantava la brava Julie Andrews in Sound of Music. È un libro sicuramente speciale anche per un'altra ragione, perché comunque è ambientato nel mondo delle stoffe, dei pizzi, dei merletti, delle gonne a balze, perché è ambientato nella Londra vittoriana. E quindi già l'ambientazione comunque di sartoria indubbiamente mi affascina molto, perché a me piacciono molto anche questo tipo di cose, la sartoria, i fili, il punto croce, il ricamo, sono tutte cose che comunque mi appassionano da sempre, perché io in realtà nasco come ricamina, cioè il primo hobby che ho avuto è stato proprio il punto croce. Comunque, chiusa questa parentesi, Laura Purson in realtà è una vecchia conoscenza, questa libraia che ha già scritto Gli Amici Silenziosi, trovate la recensione qui da qualche parte sul canale. Un libro che mi era piaciuto, anche quello molto, perché gli ambienti comunque sono sempre ambienti e le atmosfere sono comunque gotiche, ma questo, il filo avvelenato, mi è piaciuto di più. E sì, ragazzi, mi è ancora di più. E quindi, avendolo letto in Kindle, sicuramente lo andrò in ebook, lo andrò a reperire anche in cartaccio. Se lo trovo usato, sicuramente lo prenderò, perché è uno di quei libri candidati sia al Kindle che al cartaccio, perché mi è piaciuto veramente tanto. Le protagoniste sono due donne, Dorotea e Ruth. Ruth sicuramente richiama anche il nome biblico e del resto la ragazza ha un carattere fortissimo, ma soprattutto ne ha viste tante durante appunto la sua giovane età, perché alla fine è una ragazzina anche quando inizia appunto la narrazione. Mentre Dorotea è una ricca ereditiera di 25 anni che è vissuta sempre nel lusso, nella bambagia. Quindi due donne con due vite molto diverse, ma che durante la narrazione si collegheranno fra di loro, avranno tantissimi punti in comune. Le tinte sono forti in questo romanzo, le situazioni hanno tinte gotiche. E se vi piacciono i grandi classici alla Genère sicuramente lo apprezzerete, una cosa che ho detto anche già su Instagram. Dorotea è una giovane ereditiera, ma ha una passione un po' particolare, cioè ha un interesse per la frenologia, quindi per lo studio del cranio. E cerca in qualche modo di studiare il cranio attraverso i carcerati, i detenuti, diciamo così, perché tramite comunque uno spirito di beneficenza, diciamo così, fa dei passaggi nella prigione per poter appunto osservare i pazienti, i carcerati, diciamo così. E questa sua passione la mette in pratica sempre, per ogni persona che la incontra tende comunque a capire se ci sono delle correlazioni tra il carattere e la forma del cranio. E lo fa con tutti, lo fa anche con il padre. Ruth invece ha avuto una vita molto diversa ed è una delle detenute, delle carcerate, per cui si conosceranno così Dorotea e Ruth, perché Ruth deve affrontare un processo in quanto è accusata di aver ucciso qualcuno. Non vi dico ovviamente chi, perché vi voglio lasciare il massimo della suspense, soprattutto il massimo delle poche informazioni, diciamo, su questo libro. Perché dovreste dare una possibilità al filo avvelenato? Sicuramente se vi piacciono le storie dalle tinte forti, dove la sospensione dell'incredulità è necessaria anche abbondantemente, per cui lo dico vi devono piacere un po' le tinte forti, le situazioni un po' da cammino acceso scopiettante, diciamo così, le atmosfere della Londra vittoriana, le vecchie lampade ad olio e tutto quello che comunque ruota intorno, anche un'immagine che abbiamo, ma non solo, perché c'è un bellissimo spaccato anche di società reale, di quello che erano in quegli anni, soprattutto la vita degli operai di Sartoria. E quindi, poi non solo, c'è il tema della maledizione, che è un tema molto caro a Laura Pulser, che è sicuramente anche degli Amici Silenziosi e che qui è preponderante, veramente una tematica forte. C'è uno scontro, diciamo, tra la scienza e la superstizione, anche in questo caso, ed è uno dei temi cardini, diciamo, della scrittura in generale, credo, di Laura Pulser a questo punto, perché il secondo romanzo dove ritrovo questo tema, per cui mi aspetto di ritrovarlo anche oltre, si ama gli albori della medicina. Mi ha colpito, ad esempio, il modo in cui vengono descritte alcune malattie, in particolare, ce n'è una, non vi dico quale, andate a scoprire, che viene nominata l'angelo vendicatore. Viene nominata come l'angelo vendicatore, anzi, l'angelo strangolatore, perché lasciava delle macchie rosse qui sotto il collo, oltre a una mancanza, ovviamente, di respiro, che provocava poi la morte molto rapidamente. E questa malattia, non vi dico il nome scientifico, scopritelo leggendo il filo avvelenato, ma mi ha colpito molto come venisse appunto chiamata, in un momento in cui la scienza ancora non dava delle risposte, veniva chiamata come l'angelo strangolatore, proprio per questi segni che venivano appunto sul collo, c'erano appunto sul collo che lasciava la malattia sul collo. Quindi sicuramente un romanzo che vi farà anche pensare, vi trascinerà sicuramente indietro nel tempo. Questa Ruth, questa protagonista, mi è piaciuta tantissimo, è piena zeppa di sfumature. Poi ci sono alcune colleghe operaie, suede, in sartoria, anche lì molto affascinanti da un punto di vista proprio caratteriale. Quindi un romanzo a tinte forti, dove comunque i protagonisti e i personaggi in genere sono molto ben descritti. Ripeto, se avete amato Cinque Tempestose, Genère, cioè romanzi veramente dove comunque l'elemento gottico, le tinte sono forti, non potrete che non apprezzare il filo avvelenato. Le atmosfere sono proprio di Keynesiane e quindi riecheggia, diciamo, il classico, la letteratura classica, ma con una scrittura estremamente moderna, estremamente coinvolgente. Quindi sicuramente un romanzo molto adatto, anche se siete alla ricerca di qualcosa che veramente vi porti via, per qualche ora distacchi, lo dico sempre, perché uno degli elementi poi, secondo me, principali da ricercare nella lettura è proprio questo, cioè la capacità di farci vivere altri mondi, altre realtà, altri tempi, di calarci in altre situazioni, di calarci all'interno di altre vite che sono lontanissime dalla nostra, magari per questioni anagrafiche, per questioni temporali, di spazio, di tempo, di cultura, per mille ragioni, ma ci permette comunque attraverso le pagine di viaggiare, di viaggiare, di andare lontano, per poi ritornare e riaprire un altro libro. Insomma, il filo avvelenato, uno di quei romanzi, che una volta finito di leggere, ti viene voglia di ricominciare da capo e non mi capita facilmente, perché io non sono un tipo di lettore che rilegge tanto, anzi, devo dire che forse nella mia vita da lettrice sono stati pochi romanzi che ho letto e riletto, tante volte, ad esempio l'opera di Zafon, Marina ad esempio, ma anche L'ombra del vento, Il gioco dell'angelo e tutta la quadrilogia del cimitero dei libri dimenticati, l'ho letto più di una volta, ma non è una cosa che mi capita tanto facilmente. Ecco, Il filo avvelenato è sicuramente un romanzo che riprenderei volentieri in mano e rileggerei molto volentieri ed è per questo che sicuramente lo prenderò anche in cartaccio oltre che in Kindle, come l'ho letto, oltre in ebook, perché appunto in ebook già l'ho letto, ma lo prenderò anche in cartaccio. Mi sembra di avervi detto tutto, la mia situazione qui procede, sono sempre appunto in casa, sempre positiva e niente, cerchiamo di rimetterci in sesto perché come potete notare un po' di sintomatologia ce l'ho, anche se è una sintomatologia comunque influenzale, quindi tutto sotto controllo. Prima di salutarvi però, volevo dirvi quello che sto leggendo in questo periodo, ovvero La stazione, che è questo bel librone, di Jacopo De Michelis, un libro che avevo già iniziato a leggere in formato ebook, ma poi complice anche un po' di tesoretto che avevo accumulato su di braccio perché ho venduto appunto parecchi libri, ne ho comprata una copia cartacea perché il libro mi stava prendendo tantissimo, io mi sono praticamente innamorata del protagonista che è appunto questo mezzanotte con la sua bella fidanzata dei capelli rossi che mi ricorda un po' uno dei personaggi di Voci Notturne, sicuramente se qualcuno diciamo del gruppo di Voci Notturne, del gruppo Facebook mi segue anche qui e lo so che lo fa, mi dà la ragione, assolutamente, perché è un personaggio molto vicino a quel personaggio lì, anche qui siamo su un thriller, ambientato alla stazione di Milano, non so dirvi molto perché non ho letto molto, ma la descrizione della stazione di Milano è assolutamente godibilissima e quindi il prossimo video sarò dedicato a lui, sicuramente. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!